ora mettiamo l'antiparassitario prima di metterla nella gabbia piccolina bella che occhietti che ha che gli mettiamo adesso? l'antiparassitario come lo devo mettere in lontananza senza toccarla lo svelo tutto perché lo metto a caduta ok piccolina che c'è piccolina? che c'è piccolina? sei spaventata? guarda giù! brava amore! guarda giù! bravissima! guarda giù amore! giù devi guardare amore! ecco qua ha messo tutto! bravissima! hai visto amore? così le cucette muoiono! occhietti verdi! ok ora ti mettiamo nella gabbietta vai amore! vai amore! vai! vai amore! vai! puoi andare tesoro! vai! vai amore! vai! che ora mettiamo la pappa e la pavetta! bravissima! a posto amore! a posto! ora ti vado a prendere l'acqua amore! ok! ce l'abbiamo fatta! la prima! ora lunedì ti portiamo a sterilizzare! andiamo a prendere l'acqua amore! e te occhi si! arrivo! ok! io vado a fare qualcosa dentro! e questo lo butti dove? no! perché se ritorniamo là con la gabbia trappola! e chi ci porta questo cibo? buttalo! no! ritorni là con la gabbia trappola! mette la tovaglia di sopra qua! ma stai registrando ancora? certo! adesso! ora dobbiamo tornare là e provare a catturare qualche di un'altra! ok! a dopo!